Musica Suolo pubblico arriva alla stangata per piazza anfiteatro, introdotto lo sconto per l'inverno ma anche un importante rincaro. Musica Pescaglia, la Fosver cresce in Valfreddana, investe 45 milioni, presentato a IMT Altistù di Lucca il progetto di espansione. Capannori, caos, elezioni nel centrodestra, Petrini rinuncia e sbatte la porta, sembrava mancasse solo l'ufficialità sulla scelta del nome del capogruppo di Fratelli d'Italia, ma adesso l'ipotesi è definitivamente tramontata. Musica Calcio, il sogno infranto, una coccente delusione, Lucchese sconfitta 2 a 0 a Padova nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, Veneti in finale col Catania. Motori, Andreucci nel limbo, tracciare, Cirta ancora da definire il programma del pluricampione Garfagnino, le certezze si chiamano Citroen C3 e Rudy Briani. Eccoci a un nuovo appuntamento con l'informazione e apriamo subito con le nuove tariffe del suolo pubblico perché l'amministrazione comunale ha deliberato le nuove tariffe con un provvedimento che farà felici la maggior parte degli esercenti ma al tempo stesso riaccenderà le polemiche in piazza anfiteatro. La buona notizia è l'introduzione per tutti di uno sconto del 34% per il periodo invernale. Quella meno buona è che in piazza anfiteatro ci sarà un aumento del 58%. Stiamo parlando delle nuove tariffe del suolo pubblico per le attività del centro storico fresche di approvazione da parte della Giunta. Dopo la revisione della suddivisione del territorio e le conseguenti variazioni per chi è passato da un'area all'altra, l'amministrazione ha annunciato uno sconto del 34%. Lo sgravio riguarderà indistintamente tutte le attività e sarà applicato nei mesi che vanno da novembre a marzo. Ma non ci sono solo buone notizie, sì perché nella delibera è stata definita anche la tariffa per piazza anfiteatro, per cui sempre nell'ambito della revisione era stata istituita una nuova zona ad hoc, battezzata A++. La tariffa annua dei 14 esercenti della piazza passerà da circa 166 euro a 263, con un incremento del 58%. Anche per loro ovviamente scatterà lo sconto invernale, che però sarà applicato sulla nuova tariffa, andando a limitare il rincaro al 24%. Questa decisione ha l'obiettivo di venire incontro alle esigenze delle attività, favorendone e incentivandone l'apertura anche nel periodo solitamente considerato di bassa stagione, ha spiegato l'assessore al commercio Paola Granucci, parlando di una riduzione importante che produce un canone complessivo annuale inferiore rispetto a prima. Un calcolo che però, va detto, non vale per piazza anfiteatro. E a proposito del centro città, ci sono novità sull'antico caffè di Simo, perché la proprietà e il comune hanno firmato il contratto che consente all'amministrazione di utilizzare il piano terra dell'antico caffè per ospitare una serie di appuntamenti culturali dedicati a Giacomo Puccini. Il comodato d'uso gratuito va dal 1 marzo al 31 maggio. Dopo la firma, quindi, il comune si occuperà di pulire e sistemare gli ambienti, ma comunque non riuscirà a rispettare la data annunciata per l'apertura e che, lo ricordiamo, era stata fissata da comunicato stampa per venerdì 1 marzo. E adesso parliamo di Fosber che si allarga e con un investimento da 45 milioni amplia lo stabilimento in Val Freddana. La Fosber si allarga e investe 45 milioni di euro con un progetto di rigenerazione industriale a consumo di suolo zero che porterà nuove assunzioni sul territorio. Dopo mesi di studi si è conclusa la fase preliminare e il gruppo leader mondiale nella progettazione, produzione e installazione di linee ondulatrici e macchinari per il cartone ondulato, ha presentato a IMT Altistudi Lucca il progetto di espansione del sito produttivo in Val Freddana, nel comune di Pescaglia. Fondato a Lucca nel 1978, oggi il gruppo conta oltre 800 dipendenti in tutto il mondo e attraverso la sede centrale lucchese e le sue filiali strategiche negli Stati Uniti su un fatturato in costante crescita con il 2023 che registra un record superiore ai 350 milioni di euro del 2022. Il progetto è una necessità principalmente di Fosber, vista la crescita che c'è stata negli ultimi anni per andare anche a ottimizzare quella che è la logistica dell'azienda, perché attualmente siamo dislocati comunque su 5 stabilimenti diversi per un totale di 20 mila metri quadri al di là di quello che è le Accorte. L'obiettivo è quello di trasformare un'area industriale nata anni fa con piccole e medie imprese in un centro Fosber che si estenderà per oltre 500 metri lungo la strada provinciale. Progetto estremamente importante perché incrementerà l'occupazione nel territorio di Pescaglia, un territorio dell'area interna e quindi ancora più importante da questo punto di vista e poi un progetto sostenibile perché si tratta della riqualificazione dell'area industriale della Val Freddana a consumo del suolo zero, perché Fosber di fatto riqualificherà l'esistente sfruttando i volumi esistenti e quindi senza andare a occupare nuovo suolo. E adesso andiamo a Fornaci dove 3.000 persone si sono ritrovate per ricordare Maria Ferreira e dire basta ai femminicidi. Maria! Maria! Solo la voce delle donne con i gilet rosa del Centro Antiviolenza Non Ti Scordare Di Te ha rotto durante il cammino il silenzio del corteo svuoltosi a Fornaci per ricordare Maria Ferreira, uccisa dal marito lo scorso 26 febbraio. Volti tirati, tesi, arrabbiati, commossi, addolorati hanno sfilato da Piazza 4 Novembre fino alla stazione. I volti silenziosi di oltre 3.000 persone, una fiumana di gente animata dalla voglia di essere presente per Maria, ma anche per esprimere rabbia e desiderio di giustizia. Innanzitutto per ricordare Maria, che era conosciuta da tanti, specialmente in questa zona, poi per dare voce anche a quelle che non sono potute essere qui. Ci vorrebbe la certezza della pena, deve essere una pena giusta nel gastolo. Siamo qui purtroppo per ricordarci che ci sono uomini vigliacchi. Quando il corteo è passato nel Viale Battisti, dinanzi al punto dove Maria è stata uccisa, c'è stato un minuto di raccoglimento davanti ai fiori, ai messaggi, alle candele dedicati a Maria, deposti dalla gente anche durante la serata. Alla manifestazione ha preso parte tanta gente e tante sono state anche le associazioni, i giovani delle scuole e le istituzioni, con la presenza di 20 sindaci. Con il suo dolore è presente anche la mamma di Vanessa Simonini, uccisa da un uomo a Gallicano. Anche se sono state fatte tante cose, si fa di tutto per contrastare la violenza, però vedo che è sempre peggio. Per me c'è tanta cattiveria, non saprei cosa dire. Io pensavo che le cose andassero in meglio, invece vanno in peggio. Da Maria Stella Dami invece l'appello a tutti per aiutare i centri antiviolenza. Aiutate i centri antiviolenza a continuare questa battaglia, a sostenere le donne vittime di violenza, perché solo così, se tutti insieme ci uniamo, possiamo forse trovare una soluzione. La spinta di una comunità intera per la sindaca Caterina Campani è un motivo in più per proseguire la lotta contro la violenza di genere e il femminicidio. Ce la dobbiamo fare, è dura perché questi episodi sono diventati sistematici, non più tardi appunto di ieri un'altra vittima, però dobbiamo tutti lavorare insieme per arginare questo fenomeno, quindi ce la dobbiamo fare. E non è ancora stata fissata la data dei funerali di Maria Ferreira, ma nel frattempo i comuni di fabbriche di Vergemoli e di Barga hanno fatto sapere che si accolleranno i costi e le spese delle esequie. Adesso cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare dell'antenna di Pontetetto, che secondo il piano comunale degli antenne è abusiva. La protesta dei cittadini di Pontetetto arriva a Palazzo Orsetti. Il comitato No Antenna ha organizzato un sit-in davanti alla sede del municipio per dire no al ripetitore da 32 metri installato in via Pattana. L'iniziativa ha tirato l'attenzione del sindaco che ha deciso di scendere in strada e incontrare i cittadini. Da parte nostra faremo il possibile per cercare di convincere l'azienda a spostare l'antenna, perché quello non è sicuramente il luogo più adatto. Abbiamo poi parlato con l'azienda incaricata di montare l'antenna e la situazione è in progresso. Sicuramente esiste un piano della telefonia mobile fatto dal Comune di Lucca, approvato dal Consiglio Comunale, e quest'antenna oggi è fuori da questo piano. Quindi è chiaro che le aree da individuare fanno parte di questo piano e quindi stiamo valutando zone che siano compatibili. Il comitato ha incassato le rassicurazioni del primo cittadino, ma ha annunciato che la protesta proseguirà fino a quando non sarà individuato, nero su bianco, un sito alternativo. E adesso la politica. Andiamo a Capannori, dove è caos nel centro-destra. Petrini sbatte la porta e rinuncia a una candidatura che sembrava ormai cosa fatta. Matteo Petrini, candidato per il centro-destra a Capannori, sembrava mancasse solo l'ufficialità e invece capitolo chiuso. Ed è proprio il diretto interessato ad aver deciso di gettare la spugna. Secondo indiscrezioni, infatti, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale non ci pensa più ad accettare la sfida, nemmeno se glielo imponessero i suoi alleati, cosa che di fatto non sta accadendo. Lo lascia chiaramente intendere Petrini dalla sua pagina Facebook, dove scrive Il senso del ridicolo, chi lo capisce, chi no. Io lo capisco e per questo arrivederci. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la riunione tra i coordinatori regionali dei partiti della coalizione, dopo che era assaltato l'accordo a livello provinciale. Un incontro infuocato nel quale il partito egemone, Fratelli d'Italia, che da settimane indica Petrini come unico candidato possibile per vincere la sfida con il centro-sinistra, alla fine non è riuscito ad imporsi sul resto della coalizione, o meglio non gli è convenuto. Forza Italia e Lega, che non hanno mai voluto mettere il timbro sulla scelta del consigliere, non ci pensano nemmeno adesso che l'asse della discussione sia spostata a Firenze, con il risultato che la situazione è ancora più stagnante di prima. Non ci sono infatti altri nomi all'orizzonte, anche perché a questo punto appare improbabile l'ipotesi di una confluenza sul nome di Paolo Rontani, ex Udc, candidato di Capanno Ricambia, capace di intercettare l'area moderata del centro-destra con cui aveva tentato la via del dialogo. A questo punto Fratelli d'Italia non potrebbe mai fare un passo indietro, visto che non lo ha voluto fino ad oggi. Così, a poco più di tre mesi dall'appuntamento elettorale di giugno, in casa centro-destra si ricomincia praticamente da capo. Scene viste riviste negli ultimi tempi, si sa, in politica tutto è possibile e tutto può ancora accadere. Certo è che questo estenuante impasse non sta facendo altro che regalare vantaggio al candidato del centro-sinistra Giordano del Chiaro, unico punto fermo per ora di una campagna elettorale che non accenna a scaldare i motori. E continua la lotta al PM10. I comuni di Lucca, Capanno, Rialto Pascio, Porcari e Monte Carlo hanno emesso una nuova ordinanza per ricordare che le misure antinquinamento già emanate resteranno in vigore fino al 31 marzo. Il riferimento in particolare ha il divieto di abbruciamenti all'aperto e all'utilizzo di generatori a biocombustibile solido. Sempre fino al 31 marzo viene inoltre introdotto il limite di 18 gradi per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali e negli edifici pubblici. Non sono invece prorogati i provvedimenti sul traffico. E adesso parliamo di disabilità perché anche l'ospedale San Luca garantirà il percorso di accoglienza nel mese di marzo. Sarà attivato anche all'ospedale lucchese il progetto PAS, percorsi assistenziali per persone con bisogni speciali. Il programma di accesso facilitato ai servizi sanitari che è riservato alle persone con disabilità intellettive, fisico-motorie o sensoriali. Al San Luca si è costituita un'equip di 10 professionisti che accoglierà e seguirà le persone con disabilità nel loro percorso di cura. L'adesione dovrà essere attivata attraverso il portale della Regione Toscana. Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico dell'ospedale San Luca. E adesso parliamo dell'edizione 2024 di Lucca Collezionando. Arrivano Giorgio Cavazzano e il papà di Lupo Alberto. Torna a Lucca Collezionando il festival Vintage Pop organizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con il comune di Lucca. La manifestazione riserverà uno spazio speciale a Sandy dai mille colori, la maghetta protagonista dei pomeriggi tv anni 80, a una mostra anime a 45 giri con 163 dischi originali d'epoca e a un'esposizione dedicata a Paperinic. Assoluta novità dell'edizione 2024, l'assegnazione nel corso della due giorni del prestigioso premio Boudoir, dedicato all'illustrazione satirica e organizzato in sinergia con Lucca Autori. Ma il cartellone prevede anche la presenza di una serie di ospiti davvero illustri. 23 e 24 marzo lo Slow Comics e lo scambio di passioni fra generazioni torna all'insegna di grandi personaggi come Lucarelli, il maestro del giallo che per la prima volta firma un soggetto a fumetti, l'autore del poster Daniele Caluri, un grande maestro del fumetto italiano e tre grandi personaggi del fumetto per ragazzi e il fumetto disneyano. I grandi protagonisti come Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche, fumettista dell'anno all'ultimo Lucca Comics & Games, per finire poi con Silver che celebra un meraviglioso anniversario dedicato ovviamente al Luco Alberto. I biglietti per Lucca Collezionando sono disponibili da oggi online e garantiscono uno sconto sull'acquisto del ticket per Verde Mura in programma dal 5 al 7 aprile sulle mura di Lucca. È tutto per questa edizione del Tg, io vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio al Tg Sport.